Gente in strada e negozi chiusi per il timore di nuovi crolli e questo lo scenario a Mandalay, in Myanmar, dove la notte scorsa un violento sisma di quasi 7 gradi ha fatto decine di feriti e diverse vittime. L'epicentro del sisma, di magnitudo 6,8, è stato registrato ad una profondità sotterranea di 10 chilometri a circa 120 chilometri a nord di Mandalay, la seconda città di Myanmar, dove gli abitanti sono fuggiti nel panico dalle loro case. Oltre alla grande paura per le persone, resta il timore per i tanti monumenti che sembrano essere stati danneggiati dal terremoto Myanmar e da anni meta di turismo religioso buddista.